20 settembre L'apparenza L'uomo guarda all'apparenza perché non può fare diversamente. Nessuno è in grado di sapere quello che c'è nel cuore del proprio simile. A volte è anche difficile sapere quello che c'è nel profondo del nostro cuore. Dio solo può comprendere quello che travaglia il nostro essere e lui solo può dare la soluzione. Dio solo è la vera luce, colui che vede oltre l'apparenza e va al profondo del nostro cuore. Dio vede al di là di quello che noi pensiamo di vedere e conosce già la soluzione al nostro problema prima ancora che sto surga. Dio vuole aiutarti, non rifiutare il suo aiuto, non ti allontanare da lui pensando di riuscire a fare qualcosa di buono solo con le tue forze. La tua vita è niente senza Gesù, ma egli può riempire la tua esistenza di tutto ciò che hai bisogno. Chiedigli aiuto ed egli risolverà ogni problema che attanaglia la tua vita. Egli chiarirà ogni dubbio e tu non ti sentirai più solo perché avrai trovato in Dio quell'aiuto di cui avevi bisogno e che solo lui ti poteva dare. Egli chiarirà ogni dubbio e tu non ti sentirai più solo perché avrai trovato in Dio.